carissimi amici e amiche bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al peccato originale e alla dimensione sessuale connessa con esso peccato originale che brutto inizio di espressione un po non proprio felice bene siamo abbastanza siamo arrivati alla terza ed ultima parte di questo ciclo di catechesi dove cominceremo a vedere come ampiamente annunciato precedentemente la rivelazione ovviamente privata fatta da Gesù sul nostro tema a Maria Valtorta chi non conoscesse Maria Valtorta Maria Valtorta è una mistica italiana nata nel 1897 morta nel 1961 a causa di un incidente evidentemente permesso dalla divina volontà rimase paralizzata a letto e dalla mi sembra metà degli anni trenta fino al termine della sua vita e a partire dai primi anni del 1940 ebbe delle assolutamente straordinarie eccezionali apparizioni non soltanto apparizioni ma rivelazioni da parte di Gesù che gli mostrò ora raccolto in dieci volumi non soltanto i suoi tre anni di vita pubblica la passione una morte e la resurrezione ma anche alcuni episodi dell'infanzia di Maria e della sua stessa infanzia tutto quello che noi ci abbiamo dai Vangeli ovviamente in forma ribadita ma ampiamente ampliata niente come dire come sempre di strettamente nuovo come in tutte le rivelazioni private ma certamente è una dovizia una ricchezza di particolari che vanno come dire a molto concretizzare focalizzare ciò che sappiamo dai Vangeli insieme a questo ci furono tanto una serie di altro materiale chiamati dettati con cui Gesù gli dava insegnamenti di vario tipo non soltanto Gesù ma per esempio anche il suo angelo custode lo vedremo forse anche questa sera il suo angelo Azzaria le cui poi lezioni furono raccolte in un libro che è un libro di Azzaria eccetera adesso non posso fare una presentazione troppo grande di Maria Valtorta se no ci si parte una puntata intera tra le tante cose dell'opera c'è la rivelazione appunto del peccato originale non proprio fin nei minimi dettagli ma come vedremo quello che dice Gesù e quello anche che dice una Madonna insomma si capisce si legge non dico neanche troppo tra le righe perché in alcuni passaggi è fin troppo esplicito ora devo fare una premessa perché io evidentemente conosco gli scritti di Maria Valtorta ma anche qui c'è stata una pianima che mi ha fatto pervenire un libro un pdf a cura della signora Giovanna Busolini che devo ringraziare non mi chiedete dove sia disponibile insomma perché magari chi sta seguendo la diretta telegram può scrivere sul canale telegram in qualche commento perché la persona che me l'ha mandato sta nel mio canale telegram e mi ha fatto come dire una piccola cortesia perché io stavo raccogliendo evidentemente attraverso gli indici analitici evidentemente grandissime cose le ricordo a memoria però non posso semplicemente citare a memoria sulla fiducia quindi devo dire questa questa cosa sta scritta nell'opera nel capitolo x oppure nei quaderni del 43 del 44 del 45 no stavo facendo quest'operazione e mi è arrivata l'informazione che c'era chi l'aveva già fatta per me nel senso che c'è stata una questa questa santa donna che si è presa la briga evidentemente appassionata e amante di maria valtorta di fare questo tipo di faticoso lavoro quindi evidentemente questo semplifica enormemente il mio perché mi consente di avere già un materiale ampiamente molto molto ampio io certamente adesso non leggeremo proprio tutto quanto alla lettera perché sono 200 pagine di pdf quindi ci si fanno un'altra altre 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 almeno 40 puntate se dovessimo leggere tutto quanto quindi diventa veramente un po troppo però certamente è molto utile ecco fatte queste brevissime premesse perché mi preme insomma voi di passare oltre andiamo a vedere la prima subito la prima sezione che si intitola perché e come è stato commesso il peccato originale e quali le conseguenze è una rassegna e che adesso cominceremo a leggere che parte attenzione però dal peccato degli angeli perché non si può capire il peccato originale se non si fa un riferimento al peccato originale degli angeli parte da qui e poi termina nella un'ultima sezione di questo prima tranche con gesù che è vero uomo e vero dio ed è il nuovo adamo quindi grande riparatore del peccato di adamo bene così come maria qui emerge chiarissimamente gli scritti di maria valtorta quindi quella dottrina di antichissima tradizione quindi che maria la nuova eva che arriva che ha ribaltato ciò che ha fatto l'antica eva e che con il nuovo adamo è stata la coppia diciamo così che riscatta il genere umano e introduce nel mondo la redenzione questa dottrina antichissima e perfettamente ribadita qui negli scritti di maria valtorta passerei subito a alla lettura o evidentemente chi volesse gli scritti di maria valtorta basta che li trova trova tutto online quindi sia l'opera sia i quaderni i quaderni sono quaderni del 43 i quaderni del 44 e i quaderni del 45 al 50 che vedremo subito la prima citazione oltre a questi c'è un bellissimo testo su cui sto facendo un ciclo di catechesi ormai da un sacco di tempo che è la Madonna negli scritti di maria valtorta a proposito la prossima catechesi sarà domani mattina perché sta seguendo la diretta alle nove e e poi lezioni sulle pistole romani il libro di azzaria l'autobiografia della valtorta ci sarebbe stato molto altro se le cose fossero state gestite meglio perché purtroppo Gesù è questa meglio dire un pochino drammatica a un certo punto ha interrotto il fiume di rivelazioni pensate che ha detto la valtorta che avrebbe lui stesso di persona tra le altre cose commentato e spiegato pensate un po il libro dell'apocalisse il libro dell'apocalisse che sono centinaia di anni che stanno cercando in qualche modo di leggere di fare letture ne sono state fatte tante certamente alcune verosimili fatte bene attendibili però immaginate cosa sarebbe stato sentire la spiegazione del libro dell'apocalisse da nostro signore Gesù Cristo questo non c'è non è arrivato e Gesù ha spiegato molto bene a castigo dei peccati di chi aveva mal gestito il patrimonio diciamo così affidato a Maria valtorta provocando peraltro un dolore immenso alla leggente che è morta come dire prima che poi entrasse in quel suo stato anteriore alla morte di praticamente in coscienza come Gesù gli aveva detto ti smemorerò del mondo nel mio amore e quello che dovevo dare a tutti attraverso il rite te lo darò soltanto a te e noi siamo rimasti senza Gesù ha promesso che partendo dalla lettera romani avrebbe commentato tutto il nuovo testamento fino all'apocalisse quindi pensate no l'opera i quattro vangeli e dalla prima lettera di san paolo insomma che la lettera romani fino all'apocalisse tutto commentato da Gesù i peccati degli uomini purtroppo determinano sanzioni divine ci siamo persi questa montagna di fortuna che almeno il resto c'è rimasto per quanto mi riguarda perché altrimenti sarebbe stato veramente una perdita enorme allora primo paragrafetto di questa prima sezione la favoletta del pomo e la quarta verità di fede faccio una premessa che è anche quello che ci siamo detti all'inizio di questo ciclo di catechesi cioè nessuno pensi che il peccato originale è Eva che prende la mela dall'albero se la mangia e poi chi non si capisce bene se porta il resto della mela ad Adamo e se lo mangia pure lui questa è una cosa ridicola questa qui sentiremo adesso che Gesù stesso conviene con questa cosa qua no e però certamente circostanze per introdurre il fatto che il peccato originale è una cosa molto molto seria ecco e che è necessario cominciare ad aprire dilatare il cuore per identificare in che cosa è consistito e di che cosa si è trattato comincio la citazione dico parla maria valtorta Gesù ripensando a quei dettati sul peccato originale che gli ha voluto annessi all'opera quando dice opera chiaramente intende la grande opera sui vangeli adesso il titolo attuale ne ha avuto i tanti insomma l'evangelo come mi è stato rivelato in dieci volumi ripeto è circa 4500 circa anche 5000 pagine di di roba insomma veramente ne pare la pena ripensando a quei dettati sul peccato originale che gli ha voluto annessi all'opera ora faranno nuove obiezioni e mi tormenteranno ancora dice lei e ho paura mi risponde Gesù l'opera è più per i maestri che per le folle i maestri daranno alle folle il succo dell'opera che con maestri chiaramente intende che abbiamo no i sacerdoti il sottoscritto molti altri no poi certamente i maestri superiori che sono i vescovi cardinali i papi ma essi per dare quel miele hanno bisogno di nutrirsi dei fiori di verità che io ho dato tutto è verità nella religione solo che da millenni e millenni attenzione alcune verità sono date dette con figure o simboli e questo non basta più ora in questo secolo di razionalismo e di positivismo e perché non dirlo di incredulità e dubbio che penetrano anche nei miei ministri attenzione che qui stiamo nel 1947 non basta più la favoletta del pomo sono parole di Gesù è così come detta non persuade non è accettata non dà aumenti di fede ma anzi indebolisce la fede sulla verità della colpa d'origine e perciò sulla verità della mia venuta per redimere la colpa d'origine e perciò sulla mia predicazione perché ero maestro fra le folle e perciò sull'istituzione divina della chiesa e perciò sulla verità dei sacramenti e potrei durare per molto ad elencare quanto fa crollare il non accettare la quarta verità di fede ossia la colpa di adamo fondamentale cioè qui Gesù dice una cosa importantissima e io evidentemente vabbè c'è bisogno della mia approvazione ma sottoscrivo al 400 per cento cioè dalla retta comprensione della verità di fede sul peccato originale dipende quasi tutta la nostra fede perché se il peccato originale non c'è non c'è stato è una barzelletta o è una sciocchezza tante cose non si capiscono la tragedia del calvario la predicazione divina la chiesa i sacramenti e le loro necessità allora lui la definisce la quarta verità di fede riprendo la citazione la prima verità è l'esistenza di dio la seconda la ribellione di lucifero e perciò la libera trasformazione dell'arcangelo nel demonio in satan e perciò dello spirito del male delle tenebre opposto allo spirito del bene della luce la terza è la creazione la quarta la colpa di adamo anteveduta nella sua divina conseguenza attenzione è da lucifero anteveduta vedremo forse già questa sera nella sua divina conseguenza da lucifero che divenne satan per non adorare me gesù cristo figlio di dio redentore dell'uomo suo avversario e vincitore la favoletta del pomo non basta più alle folle di oggi e soprattutto i maestri di oggi i quali le insegnano male perché il loro pensiero non la può accogliere più alla sottile metodica erosione corrosione del razionalismo e altre tendenze dell'oggi si opponga una aperta schietta plausibile credibile dignitosa come si conviene a cosa che il rapporto con dio che è prova messo ad addire i suoi creati versione l'unica sincera reale versione del primo peccato sono parole molto chiare e crederanno di più i maestri e sapranno far credere di più i fedeli io vi dico amici non ho nessuna paura di dirlo tutto il corso tutto questo ciclo di catechesi tende a questo io la prima volta che ho letto queste cose sono rimasto folgorato ma non c'è non soltanto perché dico ma per per la come dice ma che rivelazione ma perché mi hanno proprio convinto al cento per cento cioè non è soltanto un fatto che dice sai ha detto così ci credi o non ci credi vabbè ci credi no no questo è proprio convincente al cento per cento perché ci ho pensato ripensato 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 ci ho pregato ripregato ripregato dico ma mamma mia e erano tutte quante tessere che si andavano componendo una pressa all'altra non vi dico poi quando è arrivato il libro che abbiamo visto nella prima parte ormai archiviata di questo ciclo di catechesi che sono andato a rileggere alla luce di questo che già sapevo però quello che i padri avevano scritto io conoscevo soltanto qualche piccola cosa ricordavo dai miei studi che questa storia del peccato originale e della dimensione sessuale in qualche modo coinvolta con essa era una era una dottrina tipica della della patristica ma non sarei stato anche lì in grado di di andare a citare tutte quante le le fonti no quindi mentre qui con maria valtorta ce l'avrei fatta insomma perché conosco l'opera quindi andando un pochino a con gli indici analitici ma lì non sarei stato in grado quando ho visto tutta quanta quella roba sono rimasto veramente quindi ho fatto uno più uno uguale due e quindi anche un po' l'impalcatura di questo ciclo di catechesi no ciò che è buono all'alba dell'umale dice ma la favoletta del pomo non va bene però il racconto della genesi come dire in qualche modo alimenta questa versione no perché l'albero della conoscenza del bene del male da eva va e mangia prende il frutto proibito d'accordo quindi la come dire la descrizione in qualche modo ha alimentato questa questa versione no un po infantile allora gesù spiega ciò che è buono all'alba dell'umanità fra i crepuscoli dei primi evi è insufficiente ed anche nocivo alla sera dell'umanità quando gli spiriti sono adulti e ammaliziati da tante cose diamo luce diamo luce perché nella luce è vita e qui con luce chiaramente gesù intende la comprensione di queste verità la rivelazione quindi entrare non è la favoletta non è la mela c'è altro ecco e luce luce perché nella luce e la vita perché la conoscenza non esaurisce evidentemente la vita cristiana altrimenti si cade nell'ognosticismo ma senza conoscenza la vita cristiana non c'è cioè una persona che entra in contatto con queste cose quindi ascolta quindi capisce cosa sono e poi ci crede a io vi dico la vita non è più la stessa è sicuro se non ci crede pace se non ascolta lo stesso ma se ascolta e ci crede la vita non è più la stessa la fede non è più la stessa e attenzione cambiano molto in meglio cambiano allora secondo step la ribellione di lucifero questo è un passaggio bellissimo è gli scritti che parlano della ribellione di lucifero sono due 29 dicembre 1945 20 gennaio 1946 vediamo se riusciamo a farli entrambi così accorpiamo in quest'unica prima tranche l'antefatto quindi che la ribellione di lucifero e la e la motivazione cosa è stato perché anche questo c'è perché se si capisce bene cosa è stato il peccato di lucifero si capisce meglio anche il perché c'è stato il peccato originale per quale motivo profondo lucifero ha fatto cadere gli uomini infettando il genere umano attraverso quella caduta perché il genere umano è infettato ed è irreversibilmente infettato ricordiamo sempre questo bisogna ribadirlo che il processo messo in atto dal peccato originale è irreversibile ecco perché adesso gli uomini devono procedere un certo modo vedremo alcuni passaggi memorabili di gesù in questi scritti al riguardo 29 dicembre 1945 siamo quindi nella sezione della ribellione di lucifero il nome primitivo era lucifero nella mente di dio voleva dire alfiere o portatore di luce ossia di dio perché dio è luce secondo in bellezza fra tutto quanto è era specchio puro che rifletteva l'insostenibile bellezza capiamo chi era lucifera lucifero scusate secondo in bellezza fra tutto quanto è e chi è il primo in bellezza chi c'era sopra lucifero dio era la creatura più eccelsa che dio avesse creato era il numero due questo questo dobbiamo tenerlo presente cioè non anticipiamo perché diventato satana non è che che ha perso cioè è rimasto così eccellente e oggettivamente grande com'era solo che tutta quanta quella portata di soprattutto di intelligenza che ha è tutta quanta adesso volta al male ma insomma tocca stare attenti tocca stare eh non non è questo un un picco pallino nelle missioni agli uomini egli sarebbe stato l'esecutore del volere di dio sentite qui gesù ci spiega cosa sarebbe stato di lucifero se non fosse caduto il messaggero dei decreti di bontà che il avrebbe trasmesso i suoi beati figli senza colpa per portarli sempre più in alto nella sua somiglianza il portatore della luce con i raggi di questa luce divina che portava avrebbe parlato agli uomini ed essi essendo privi di colpe avrebbero compreso questi baleniri armoniche parole tutte amore e gaudi saremmo stati dei grandi amici con quello che adesso è il nostro nemico numero uno saremmo stati dei grandi amici che peccato è studiare cioè studiare seguire un pochino la storia della della creazione significa anche imbattersi in queste in queste tragedie cioè che le libertà degli esseri creati tali fanno danni grossi a volte certo che poi dio vince sempre e dice sempre pronto il piano di di riserva non si lascia mettere sotto scacco dalle libertà umane tuttavia c'è qualche cosa che si perde ahimè e almeno nel modo in cui si è perso quella cosa non torna noi non diventeremo mai amici di lucifero mai d'accordo mai neanche quelli che gli consacrano l'anima sono amici suoi stupidi come come sono perché lui non ha amici chi gli consacra l'anima non è che già ho consacrato l'anima quindi mi ama no lo odia ugualmente ma come gli dà un sacco di cose si gliele dà ma lo odia e quando se lo porterà all'inferno lo torturerà non è che gli dice ah guarda siccome tu ti sei venduto l'anima a me vieni vieni che adesso qui non funziona così non funziona così vedendosi in dio vedendosi in se stesso adesso cominciamo a vedere un pochino la psiche perché anche lui c'ha qualche cosa che assomiglia alla psiche no perché anche anche se è un puro spirito uno spirito intelligente cosa combina lucifero come ha incubato e concepito il suo peccato originale primo step vedendosi in dio vedendosi in se stesso vedendosi nei compagni perché dio lo avvolgeva della sua luce si beava nello splendore del suo arcangelo poiché gli angeli lo veneravano come il più perfetto specchio di dio si ammirò doveva ammirare dio solo questo ricordiamocelo sempre l'ammirazione è sempre dovuta a dio solo né al prossimo e nemmeno a noi stessi mai riprendo la citazione doveva ammirare dio solo ma nell'essere di tutto quanto è creato sono presenti tutte le forze buone e malvagie e malvagie si agitano finché una delle due parti vince per dare bene o male come nell'atmosfera sono tutti gli elementi gassosi perché necessari lucifero attrasse a sé la superbia attrasse a sé attenzione che la caduta di lucifero è nella sacra scrittura adombrata si nomina proprio lucifero però è descritto in uno dei classici passaggi della bibbia che compare improvvisamente ci abbiamo un versetto israelia 14 12 e poi scompare no sta caduta di lucifero è come quando compare melchisedec sotto diversi altri punti di vista no a un certo punto la libido della genese 3 4 versetti compare questo questa figura misteriosa di melchisedec poi sparisce non se ne parla più se ne parla nel salmo 110 tu sei sacerdote per sempre il modo di melchisedec ma sparito così lucifero fa questa comparsa come sei caduto eccetera eccetera e poi sparisce cose frequenti nel grande mare magnum divino ma anche bellissimo e misterioso della sacra scrittura lucifero attrasse a sé la superbia la coltivo le stese se ne fece arma e seduzione attenzione volle più che non avesse volle il tutto lui che era già tanto sedusse anche meno attenti fra i suoi compagni li distrasse dal contemplare dio come suprema bellezza conoscendo le future meraviglie di dio volle essere lui al posto di dio si vide col pensiero turbato capo degli uomini futuri loro sapevano che dio avrebbe creato anche gli uomini adesso lo vedremo come lo sapevano bene si vide col pensiero turbato capo degli uomini futuri adorato come potenza suprema pensò conosco il segreto di dio so le parole mi è noto il disegno posso tutto ciò che lui vuole come ho presieduto le prime operazioni creative posso procedere io sono a dire questa cosa attribuisce a sé stesso il nome di dio la parola che solo dio può dire fu il grido di rovina del superbo e fu satana quindi il peccato di lucifero fu volersi fare come dio come tutti quanti sappiamo poi gesù spiegherà qualche altro particolare della molla della molla del perché di cos'è che l'ha fatto partire proprio e andare fuori di testa fu satan in ebraico satana si dice satan sono cinque lettere la traslitterazione italiana in verità ti dico che il nome di satan non venne messo dall'uomo che pure per ordine e volere di dio mi sia un nome a tutto ciò che conobbe essere e che tuttora battezza con un nome da lui creato con le sue scoperte in verità ti dico che il nome di satan viene direttamente da dio ed è una delle prime rivelazioni che dio fece allo spirito di un suo povero figlio pagante sulla terra e come il mio nome santissimo ha significato ha il significato che ti ho detto una volta per chi vuole andare a vedere nel dettato del 22 agosto del 1943 ora ascolta il significato di questo nome orrendo scrivi come ti dico è un acronimo no? satan e vicino ci sono degli attributi s come sacrilegio e superbo a come ateismo e avverso t come turpidudine tentatore e traditore a come anticarità e avido n come negazione e nemico questo è satan satan e questo sono coloro che sono malati di satanismo e ancora è seduzione, astuzia, tenebra, agilità, nequizia seduzione, s astuzia, a t tenebra a agilità e nenequizia le cinque maledette lettere che formano il suo nome scritte col fuoco della sua fronte fulminata le cinque maledette caratteristiche del corruttore contro le quali fiammeggiano le cinque benedette mie piaghe che con loro dolore salvano chi vuole essere salvato da ciò che satana continuamente inocula il nome di demonio, diavolo, belzebù può essere di tutti gli spiriti tenebrosi tutti quanti gli spiriti li possiamo chiamare diavoli li possiamo chiamare demoni e per estensione anche se belzebù è il nome proprio di un diavolo si possono chiamare belzebù ma questo è solo il suo nome satan e in cielo non è nominato che con quello perché là si parla il linguaggio di Dio infedeltà di amore anche per indicare ciò che si vuole secondo come lo ha pensato Dio egli è il contrario quello che è il contrario a Dio quello che è il contrario di Dio e ogni sua azione è l'antitesi delle azioni di Dio pensate ai simboli del satanismo la croce rovesciata le candele nere noi ce le abbiamo bianche e loro ce l'hanno nere eccetera no? soltanto per dire per fare due esempi tra i più sciocchi no? ogni suo studio è portare gli uomini ad essere contrari a Dio ecco ciò che è satana è il mettersi contro di me in azione alle mie tre virtuti o locali oppone la triplice concupiscenza quindi fede speranza e carità concupiscenza della carne e degli occhi e superbia della vita alle quattro cardinali e tutte le altre che da me scaturiscono il vivaio serpentino dei suoi vizi orrendi ogni virtù c'è il suo vizio direttamente opposto ma come si dice che di tutte le virtù la più grande è la carità così dico che delle sue antivirtù la più grande a me repulsiva è la superbia perché per essa tutto il male è venuto per questo dico che mentre ancora compatisco alla debolezza della carne che cede al vomito della lussuria dico che non posso compatire all'orgoglio che vuole da nuovo satana competere con dio ti paio ingiusto no considera che la lussuria in fondo è vizio della parte inferiore che in alcuni ha appetiti tanto voraci e soddisfatti i momenti di abbrutimento che ne betisce ma la superbia vizio della parte superiore consumato con acuta e lucida intelligenza premeditato duraturo lei della parte che più somiglia a dio calpesta la gemme data da dio comunica somiglianza con lucifero semina il dolore più della carne perché la carne potrà far soffrire una sposa una donna ma la superbia può fare vittime in interi continenti in ogni classe di persone ma voi pensate volendo un attimo dare un significato ma Hitler chi era? superbo uno che si è additato al mondo come il dio da adorare il nazismo ma tutti quanti gli stati totalitari sono in realtà delle religioni alternative dove al posto di dio c'è il dittatore al posto della legge di dio c'è stanno le leggi dello stato totalitario degli stati etici e guardate che questa cosa si ricicla in continuazione si ricicla in continuazione si ricicla in continuazione e dietro queste cose ci sono dei mostri di superbia che agiscono con piena coscienza coscienza e coscienza sapendo quello che stanno facendo volendo farlo ecco perché Gesù dice la superbia può fare vittime in interi continenti in ogni classe di persone per la superbia è stato rovinato l'uomo e pererà il mondo per la superbia l'angue la fede la superbia la più diretta emanazione di dio ho perdonato ai grandi peccatori del senso perché erano privi di superbia di spirito ma non ho potuto redimere Doras Giocana Sadoc Eli e altri pari a loro perché erano i superbi questi quattro personaggi sono quattro tra i farisei veramente più odiosi veramente più inqualificabili che appaiono nell'opera l'opera è straordinariamente edificante non soltanto per quello che si vede in Gesù ma perché compaiono poi descritti nei particolari perché questa donna ci aveva ed è per questo probabilmente che è stata scelta dal Signore o meglio il Signore stesso l'attrezzato con questi doni una capacità descrittiva e anche di drammatizzare dialoghi che ti sembra di stare al cinema ti manca l'immagine del film ma tu la vedi quella cosa questi soggetti ma se uno legge ti sale la rabbia dice ma li prenderesti a schiaffi proprio perché sono veramente l'incarnazione della superbia più becera allora l'altro scritto viene da uno che era presente al peccato originale di Lucifero cioè dal libro di Azzaria 20 gennaio 1946 mentre al lavoro di Ago contemplo mentalmente la figura morale di Gesù Cristo penso che se potessi avere un quadro dipinto da lui dipinto di lui secondo le mie indicazioni e perciò il più vicino possibile a quello del suo santissimo volto di uomo vorrei fargli scrivere sotto una frase che fosse tutto ciò che era Gesù di Nazareth penso a venite a me io sono la via la verità la vita sono io non temete ma sento che non è ancora ciò che l'anima mia vuole per indicare il Cristo Santa Azzaria mi parla Gesù è il compendio dell'amore dei tre Gesù è il compendio di ciò che è la santissima divinità unità di Dio è la perfezione dei tre compendiate in uno solo è l'infinita multiforme perfezione compendiata in Gesù un abisso di perfezione davanti al quale si prostrano adorando le minizie celesti e le beate moltitudini del paradiso un abisso di amore che può essere e può essere compreso e accettato solo da coloro che possiedono l'amore onde qui si spiega come poter divenire spirito del male l'arcangelo che era spirito benigno e santo attenzione ma non santo al punto da essere tutto amore è la misura dell'amore che uno ha in sé che dà la misura della sua perfezione e della sua refrattarietà ad ogni corruzione e attenzione qui si parla di amore di Dio facciamo il solito spot pubblicitario ad altra catechesi quando nel ciclo di catechesi vizi e virtù ho cercavo di parlare della carità ho molto insistito su questo fatto la virtù teologale della carità non è principalmente l'amore del prossimo non è principalmente l'amore del prossimo è subordinatamente l'amore del prossimo ma il primo progetto della carità è amerare il Signore Dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutte le tue forze e se questo c'è ma altro che amore del prossimo ami pure il nemico perché il nemico non lo ami se non c'è l'amore di Dio a questo livello va bene chiusa questa parentesi qui però attenzione a cosa dice Zaccaria era santo ma non era tutto amore quindi quel fumo che è nato in lui ha trovato una fessura dal non essere tutto amore per il suo Dio quando l'amore è completo dice Zaria nulla può entrare a corrompere nulla questo vale anche per noi la molecola che non ama è breccia facile per l'infiltrarsi dei primi elementi che non sono amore ed essi sforzano allargano e allagano e sommergano gli elementi buoni fino ad ucciderli Lucifero aveva un'incompleta a misura di amore attenzione il compiacimento di sé occupava uno spazio in lui uno spazio in cui non poteva essere amore pensate se dovessi io fare l'esame di coscienza adesso prima di Pasqua prova a vedere quali spazi non sono tutto amore per Dio nella tua vita cosa altro c'è questo spazio prosegue il testo fu la breccia per la quale entrò rovinosa la sua depravazione non poté per essa comprendere ed accettare il Cristo amore compendio dell'infinito unico trino amore e che al giorno attuale più sia vasta l'eresia che nega l'umanità divina della seconda persona verissimo nel 46 non vi dico quello che si scriveva in giro su queste cose e fa di lui un semplice uomo buono e saggio si spiega facilmente con questa chiave la mancanza di amore nel cuore umano l'incapacità di amore la povertà nel possesso d'amore perché quando uno non ha l'amore presta a Dio i suoi sentimenti non ci arriva a concepire un amore così grande che possa abbassarsi così tanto rimanendo quello che è perché Gesù è Dio pur essendosi abbassato in quel modo immenso con cui si è abbassato osserva anima mia che sia nel tempo di Cristo come poi nella sua era due furono sempre i punti in cui più si impuntò l'intelletto protervo dell'uomo che non può credere se non è umile e se non è amoroso che il Cristo fosse Dio uomo e facente azioni unicamente spirituali e per le quali fu odiato anche dai suoi più intimi e perciò tradito e che abbia creato il sacramento dell'amore attenzione al sacramento dell'amore l'eucaristia è un altro punto veramente di discriminanza assoluta oserei dire assoluta allora ora sempre senza amore ereticamente dissero e diranno che Dio non può essere in Gesù e che Gesù non può essere nella santissima adorabile eucaristia e guardate che ahimè io temo che anche nella nostra amata chiesa non tutti e uso un ampio eufemismo ci credano veramente che Gesù Cristo è presente nell'eucaristia perché chi ci crede veramente poi dovrebbe essere capace di giustificare tutto quello che è stato fatto all'eucaristia da 60 anni a questa parte chiusa parentesi perché se entriamo in questo non riusciamo a finire la descrizione del peccato originale perciò anima mia se avessi a far scrivere una parola sotto l'effigie dell'uomo Dio dovresti fare scrivere io sono il compendio dell'amore la dice Gesù la frase da scrivere il compendio dell'amore a Zaria tace adorando che pace che pace si fa in me che luce che sensazione di benessere mentale di un pensiero che si acquieta per una risposta che lo persuade totalmente si fanno dopo durante e dopo la lezione angelica col mio tesoro chiudo il quaderno e torno al lavoro rileggo più tardi medito il mio appunto e mi impunto sulla frase Lucifero non santo al punto da essere tutto amore nel concetto sublime che io ho degli angeli non riesco a capire come uno spirito quale è lo spirito che angelo abbia potuto avere manchevolezze è sempre stato un invincibile stupore il mio davanti al peccato degli angeli e mai nessuno mi ha dato una spiegazione che mi persodesse del come degli esseri spirituali creati dal volere perfetto di Dio in un creato dal quale mancava l'elemento male perché ancora non si era formato contemplanti l'eterna perfezione e quella sola abbiano potuto peccare ora la frase non santo da essere tutto amore mi arresta suscitando di nuovo il mio ma come potrei essere ciò e qui Santa Azaria interviene di nuovo e mi dice gli angeli sono superiore agli uomini dico uomini per dire gli esseri così chiamati composti di materia e di spirito allora siamo superiore noi tutto spirito ma ricorda che quando nell'uomo vive nella grazia circola il sangue del mistico corpo di cui il capo è Cristo mentre i sette sacramenti lo corroborano dalla nascita alla morte per ogni stato e per ogni fase della vita allora in voi templi vivi del Signore noi vediamo il Signore e adoriamo Egli in voi e allora voi siete superiore a noi altri Cristi siete e avete ciò che è detto pane degli angeli ma solo degli uomini e pane l'Eucharistia mistica insaziata fame dell'Eucharistia che è in noi e che ci fa stringere a voi quando di essa vi nutrite per sentire la fragranza divina di questo cibo perfetto cioè voi pensate quegli sciagurati che trascurano l'Eucharistia Azzeria sta dicendo che gli angeli tra virgolette in un certo senso buono ovviamente ci invidiano perché possiamo fare la comunione loro no loro che sono spiriti non possono prendere l'ostia consacrata come noi chiuso sempre parentesi ma per tornare al punto iniziale ti dico che negli angeli diversi in natura e perfezione a voi vi è come in voi libertà di volere cominciamo a libertà di volere Dio nulla ha creato di schiavo scritto in grassetto qui probabilmente dall'autrice ha fatto bene Dio nulla ha creato di schiavo se vi sentite i miei interventi da almeno due anni a questa parte ho fatto veramente a chi ha avuto la pazienza di seguirmi una testa così con questi concetti perché nelle circostanze attuali abbiamo avuto modo di comprenderne e scoprirne l'importanza no? in origine nel creato non era che ordine ma l'ordine non esclude la libertà anzi nell'ordine è perfetta libertà nell'ordine non è neppure ad essere costruttrice la paura di un'invasione di un'intrusione di un'anarchia di altre volontà che possano produrre collusioni e rovine penetrando nell'orbita e nella traiettoria di altri esseri e cose create così era l'universo tutto prima che Lucifero abusasse della sua libertà e con volontà propria mettesse in sé disordine di passioni per creare disordine nell'ordine perfetto se fosse stato tutto amore non avrebbe avuto posto in sé per altro che non fosse amore invece ebbe posto per la superbia che potrebbe dirsi il disordine dell'intelletto Dio avrebbe potuto impedire questo fatto sì sì mettiamocelo bene in testa sì ma perché violentare la volontà libera del bellissimo intelligentissimo arcangelo attenzione a questo passaggio non avrebbe allora lui stesso il giustissimo messo disordine nell'ordinato suo pensiero non più volendo ciò che prima aveva voluto ossia la libertà dell'arcangelo tutta la gente che dice perché Dio non impedisce questo perché Dio non impedisce questo perché Dio non impedisce quest'altro se Dio ha creato un essere libero Dio non rinnega se stesso non può mettere disordine nel suo stesso operato e quindi non lo violenta ecco perché ho detto in tante circostanze e lo ripeto se c'è qualcosa dove c'è la violenza ricordati che lì Dio non c'è nei salmi c'è scritto egli odia chi ama la violenza di tutti i tipi e attenzione che la violenza mentale i lavaggi del cervello le manipolazioni di vario genere sono molto peggiori della violenza fisica chiusa questa altra parentesi non avrebbe allora lui stesso il giustissimo messo disordine nell'ordinato suo pensiero non più volendo ciò che prima aveva voluto sia la libertà dell'arcangelo Dio non oppresse lo spirito turbato per metterlo con violenza nell'impossibilità di peccare il suo non peccare attenzione non avrebbe avuto allora nessun merito anche per noi fu necessario il saper volere il bene per continuare a meritare di godere la vista di Dio a beatitudine infinita vedere Dio a beatitudine infinita te lo devi merita e te lo meriti attraverso l'esercizio della libertà se la libertà non ce l'hai più il merito è finito se non potessi fare altro se fossi programmato per fare soltanto una cosa il merito non esisterebbe ma non saresti libero Dio come l'aveva voluto al suo fianco nella prima operazione creativa l'arcangelo sublime l'aveva voluto al fianco nella prima operazione creativa l'arcangelo sublime pensiamo a questo tempo per noi è un pochino misterioso in cui Dio era amico di Lucifero e viceversa lo aveva voluto con sé e lo volle cognito del futuro della creazione d'amore così lo volle cognito attenzione dell'adorabile e dolorosa necessità che il suo peccato avrebbe imposto a Dio cioè Lucifero lo sapeva questo qui l'incarnazione è morte di un Dio per conto per lanciare la rovina del peccato che si sarebbe creato se Lucifero non avesse vinto la supervenza in sé stesso attenzione cosa significa che quando Lucifero ha peccato il peccato angelico cioè arrivato già Sant'Omaso lui ha agito con lucidità assoluta perché non soltanto sapeva tutto il male che avrebbe prodotto ma anche quello che poi questo avrebbe comportato cioè l'incarnazione è morte di un Dio per conto bilanciare la rovina portata dal suo peccato e l'ha fatto lo stesso l'amore non poteva che parlare questo linguaggio il primo annichilimento di Dio in questo atto di voler piegare dolcemente il superbo supplicandolo quasi con la visione di ciò che la superbia sua avrebbe imposto a Dio a non peccare per portare altri a peccare quindi vedete come Dio non fa violenza ma si umilia si umilia si annichila dice Lucifero non fare queste cose qui perché se lo dovessi fare guarda 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 che va a succedere sarà necessario per riparare per distruggere per controbilanciare questo cioè che un Dio dovrà dovrà incarnarsi e dovrà patire e dovrà soffrire e dovrà morire quindi lascia perdere era atto di amore ma Lucifero già insatanassato lo prese per paura debolezza e affronto per dichiarazione di guerra e guerra mosse contro il perfettissimo tu sei io pure sono ciò che tu hai fatto per me l'hai fatto non c'è Dio e se un Dio c'è sono io io mi adoro io ti abborro io mi rifiuto di riconoscere chi non mi sa vincere per mio Signore non mi dovevi creare così perfetto se non volevi i rivani ora io sono e ti sono contro vincimi se puoi ma non ti temo io pure creerò e per me tremerà il tuo creato perché io lo scrollerò come brandello di nuvola presa dai venti perché ti odio e voglio distruggere ciò che è tuo per creare sulle rovine ciò che sarà mio non conosco e non riconosco nessun'altra potenza all'infuori di me e non adoro più non adoro più non adoro più altro che me stesso sconvolgenti no? queste parole veramente allora nel creato in tutto il creato dal limo al profondo fu una convulsione orrenda per l'orrore delle sacriliche parole una convulsione quale non sarà alla fine del creato e nacque da essa l'inferno il regno dell'odio anima mia comprendi come nacque il male? dalla volontà libera e rispettata tale da Dio di uno che non era tutto amore possiamo farci una bella frase e incorniciarla questa qui volontà libera e rispettata tale da Dio di uno che non era tutto amore adesso capiamo la grandezza della Madonna chi era la Madonna se uno volesse definirla la tutta amore a Schio la Madonna si è rivelata con un nome bellissimo come la regina dell'amore e credi che su ogni colpa che da allora è commessa è sempre questo giudizio qui non è tutto amore l'amore completo interdice il peccare per questo che Sant'Agostino diceva quella frase ama e fai quello che vuoi ma ama non è l'amore del prossimo ma l'amore di Dio anzitutto ma se tu ami Dio con amore totale che tu ti faresti ammazzare piuttosto che anche una virgola fare che gli possa dispiacere ma come fai a peccare è impossibile perché il peccato cioè dietro il peccato c'è sempre una forma di non amore tu stai amando te stesso più di quanto ami Dio il tuo piacere il tuo interesse il tuo comodo o una creatura l'amore completo interdice il peccare attenzione e senza sforzo senza per cui lo ci sputa sopra i peccati e se qui mi posso fare posso fare un volo abusivo ecco perché la divina volontà per chi la conosce è la santità delle santità quante volte ho detto il regno della divina volontà è il regno dell'amore assoluto assoluto simile a com'era prima del peccato originale degli uomini l'amore completo interdice il peccato e senza sforzo non fatica chi ama a raggiungere la giustizia l'amore lo porta alto soprattutto i fanghi e i pericoli lo purifica di attimo in attimo delle imperfezioni appena apparenti che ancora ci sono nell'ultimo grado della santità consumata in quello stato in cui lo spirito è così progredito da essere veramente re già unito con spirituale connubio al suo signore godendo di un solo grado meno ciò che è la vita dei beati in cielo tanto Dio si dona e si svela al suo figlio gloria al padre e al figlio e al benedetto spirito santo più avanti in altre sezioni dell'opera stessa c'è un altro approfondimento del peccato originale di Lucifero l'anticipo per chiudere questo abbiamo ancora due minuti la prova a cui furono sottoposti gli angeli e che generò questa brama e questa rivolta di Lucifero fu questo avete visto avete sentito che se l'era portato con sé nei primi passi della creazione agli angeli fu rivelato che sarebbero stati creati degli esseri inferiori a loro cioè gli uomini ma intelligenti come loro e che il verbo per nobilitare tutto il creato quindi materiale spirituale compresi gli angeli però avrebbe dovuto unire a sé ipostaticamente una creatura umana evidentemente comportando il fatto che quella creatura umana che non è autosussistente ma sussiste in quanto unita al verbo doveva essere adorata anche dagli angeli e lo strumento perché questo avvenisse perché la maternità come vedremo ci sarebbe stata lo stesso anche senza la riproduzione sessuata perché Dio voleva che le mamme e le donne fossero mamme lo vedremo la creatura che avrebbe fatto questo chiaramente veniva innalzata in dignità e capite Lucifero che era il numero due che cosa che hai detto io devo io devo adorarti in questo modo ma stiamo scherzando questo io non lo farò mai ed è stata la dichiarazione di guerra bene questo sarà approfondito più avanti ma la prossima volta cominceremo a entrare dopo questa premessa sui primi dettati relativi al peccato originale degli uomini che è il tema proprio della nostra catechesi però capiremo che questo passaggio era indispensabile è necessario perché il peccato originale è avvenuto per istigazione del serpente per portare la razza umana tanto amata da Dio alla rovina parleremo una prossima volta la santa notte a tutti e che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga la santa notte la santa notte la santa notte